Nel 1964, in un edificio agricolo soprannominato la Casa delle Frese, i fratelli Maschio iniziarono a costruire le prime macchine agricole. Oggi quell'edificio agricolo, adebito a laboratorio meccanico, è diventato un grande gruppo industriale, sapientemente condotto dai due soci fondatori Egidio e Giorgio Maschio. Il gruppo è ormai da anni leader mondiale nella produzione di erpici, frese, trincia, zappatrici, coltivatori, seminatrici, sarchiatrici e falciatrici. Realizza complessivamente 120 tipologie di macchine ed esporta circa il 75% dei propri prodotti in tutto il mondo. Maschio Gaspardo S.P.A. Conta su ben sei stabilimenti produttivi situati in Italia, in Romania e in Cina. Complessivamente i siti produttivi contano circa 365.000 metri quadrati di superficie, dei quali circa 80.000 coperti. A Campo d'Arsego, in provincia di Padova, si trova lo stabilimento dedicato alla produzione di macchine ed attrezzature per la lavorazione del terreno. Erpici, zappatrici, tosaerba e trincia di ogni tipologia, sia fissi che pieghevoli, e conta oltre 50 modelli di macchine nella propria gamma di produzione, una disponibilità unica per tutte le esigenze del mondo agricolo attuale. Le parti meccaniche assemblate in queste linee di produzione garantiscono un'elevata capacità di lavoro e resistenza, grazie all'utilizzo di componenti di alta qualità, come il cambio bondioli e pavesi. Ponendo la qualità totale come obiettivo costante, questo stabilimento produce internamente, utilizzando acciaio svedese, tutte le lame equipaggiate sulle macchine per la lavorazione del terreno, permettendo eccellenti risultati e una lunga durata. Infatti, i coltelli prodotti da Maschio Gaspardo si distinguono grazie ad un altissimo grado di resistenza nella lavorazione, tanto da essere garantiti a vita. Inoltre, grazie a questa efficiente produzione interna, viene assicurato l'approvvigionamento veloce e costante al Dipartimento Ricambi. A Morsano, al Tagliamento, in provincia di Pordenone, è situato il centro di produzione di seminatrici e macchine combinate, dove vengono prodotti più di 70 modelli di macchine e tecnologie per la semina e la lavorazione del terreno. Seminatrici pneumatiche di precisione per cereali e ortaggi, seminatrici meccaniche in linea, seminatrici meccaniche e pneumatiche per semina su sodo, sarchiatrici, inoltre barre falcianti a doppia biella e a dischi. In questo stabilimento, i reparti produttivi sono dedicati al montaggio delle macchine, alle lavorazioni di carpenteria e all'apparato elettrico ed elettronico. Di rilevante interesse è la sofisticata linea di verniciatura con processo di cataforesi. Una tecnica avanzata che, utilizzando prodotti di altissima qualità PPG, è in grado di fornire alla struttura delle macchine una verniciatura molto compatta, con elevatissima resistenza alla corrosione. A Cadoneghe, in provincia di Padova, Maschio Gaspardo ha un'efficiente unità produttiva, che seguendo con elevata precisione e competenza le direttive e i progetti forniti, realizza semi lavorati esclusivamente per le macchine prodotte dal gruppo. In questo stabilimento, il personale è altamente qualificato e sono presenti tecnologie all'avanguardia dedicate alla lavorazione dell'acciaio. Tra le più significative, segnaliamo un magazzino robotizzato, ovvero un capiente reparto di stoccaggio automatizzato per materie prime e semi lavorati. Qui gli articoli vengono richiesti al terminale e il magazzino provvede autonomamente alla ricerca, al prelievo e alla consegna, lavorando anche con turni che coprono le 24 ore. Inoltre, si trovano stazioni di taglio laser Trunf completamente automatizzate, che preparano i pezzi di tagli diversi in base alle richieste della produzione. Isole di saldatura, ovvero reparti automatizzati dediti alla saldatura. Qui sono presenti numerosi robot realizzati da ABB Robotics, che permettono l'intervento dell'operatore solamente nelle funzioni di carico e scarico del pezzo in lavorazione. Gli innovativi centri di lavorazione, serviti costantemente dai robot e presidiati da persone di alto profilo tecnico professionale, garantiscono la precisione nella produzione dei semi lavorati, anche in regime di produzione continua giorno-notte. Infine, è presente anche un vasto magazzino stampi. Questo patrimonio permette a Maschio Gaspardo di avere una pronta e vasta capacità di produzione in linea con tutte le esigenze del mercato mondiale. A San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova, il gruppo ha uno stabilimento ricco di tecnologie. Infatti, sono presenti numerose presse meccaniche ed idrauliche che arrivano fino a 5.000 tonnellate, dotate di transfer e linee di alimentazione per nastri. Infine, sono installati anche impianti per lavorazioni di assemblaggio e di saldatura. In Romania è presente un'azienda specializzata nella realizzazione di macchine per la minima lavorazione. Lo stabilimento prevede l'utilizzo di tecnologie ed attrezzature per la lavorazione dell'acciaio e l'assemblaggio di componenti fino alla macchina finita. In particolare, vengono prodotte attrezzature da 60 a 600 cavalli, tra cui i dissodatori, erpici a dischi e i coltivatori del letto di semina. Oltre alla produzione, è possibile il rifornimento diretto dei componenti di ricambio grazie alla presenza di un magazzino apposito. Nel 2004, subito dopo la costituzione di Maschio Gaspardo Romania, nasce nell'estremo est della Cina Maschio Gaspardo Cindao. Qui si producono strumenti di piccola taglia come tosaerba, frese e trincia. Maschio Gaspardo Cindao è una realtà industriale di alto livello ed è in grado di far fronte direttamente alle esigenze dei mercati emergenti del settore orientale. Qui sono presenti tutte le fasi del processo industriale. Progettazione, lavorazioni meccaniche, controllo qualità, fino alla realizzazione del prodotto finito. La costante ed attenta presenza dei dirigenti dalla sede centrale in Italia garantisce un'uniformità dello standard qualitativo in tutta la filiera produttiva e nei servizi post vendita. A Villa Franca, nei pressi di Padova, il gruppo svolge le attività di formazione del personale aziendale e dei rivenditori all'interno di Villa Maschio, un vasto edificio settecentesco restaurato dalla famiglia Maschio. In questo speciale contesto, tradizione e tecnologia trovano un punto d'incontro. In un così importante gruppo aziendale, non manca un centro dedicato alla ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche applicate alle migliori tecniche di lavorazione del terreno e della semina. Questo centro, situato ad Aquileia, in provincia di Udine, offre la possibilità ai tecnici e ricercatori Maschio Gaspardo di testare nelle diverse condizioni le macchine prima della loro messa in produzione. Il gruppo è presente in tutto il mondo con filiali dall'estremo oriente fino ad occidente. Infatti, oltre agli stabilimenti produttivi, vanta filiali in Corea, in Medio Oriente, in Turchia, in Russia, in Ucraina, in Polonia, in Germania, in Francia, in Spagna e nel Nord America. Entro il 2010 è prevista l'apertura di uno stabilimento produttivo in India. La proliferazione di filiali nel mondo è la testimonianza di una concreta e costante volontà e strategia di sviluppo dell'esportazione iniziata nei primi anni 70. Anche le filiali estere sono attivamente propositive verso il loro mercato di competenze, organizzando o partecipando ad importanti iniziative di informazione verso la clientela o partecipando a fiere manifestazioni importanti. La più eclatante è In Campo, manifestazione itinerante in tutta Europa e dedicata alla promozione dei prodotti del gruppo. Qui il personale tecnico, con l'ausilio anche di docenti universitari e agronomi, presenta direttamente le peculiarità delle nuove tecnologie Maschio-Gaspardo. Tutto questo è il frutto dell'impegno della famiglia Maschio, che comprende oltre ai due soci fondatori, Egidio e Giorgio Maschio, anche i figli Andrea, Mirko, Martina e Monica presenti nella compagine direzionale e che garantiscono la continuità nella guida dell'azienda. Una così grande e solida realtà industriale prosegue in modo eccellente anche grazie al buon lavoro di tutti coloro che operano nel gruppo. Circa mille dipendenti, accuratamente selezionati, professionalmente preparati e motivati nel perseguire gli obiettivi aziendali. Competenza, intuizione e creatività sono parole chiave nei centri di progetto delle aziende. Veri e propri dipartimenti di ricerca e sviluppo, dove professionisti e tecnici cercano sempre nuove soluzioni per migliorare il prodotto. Tutto questo grazie anche ad una eccellente piattaforma informatica di progettazione IBM che si avvale di KTA V5, un'efficiente e completa suite integrata di applicazioni software, tanto da risultare la soluzione leader nello sviluppo dei prodotti. Maschio Gaspardo è un'azienda certificata UNIEN ISO 9001-2008. Infatti ogni fase di gestione, di produzione e di servizio è stata concepita e collaudata al fine di ottimizzare le risorse e garantire un'elevata qualità del prodotto. SAP è il sistema gestionale utilizzato da tutti gli stabilimenti e le filiali del gruppo che supporta ed ottimizza i processi aziendali. Seguendo la filosofia della Lean Production, Maschio Gaspardo ha uniformato i reparti di produzione standardizzando i componenti delle macchine prodotte ed eliminando gli sprechi. Si sono così ottenuti grandi vantaggi tecnologici e un sensibile snellimento nei processi di approvvigionamento, distribuzione dei prodotti e di post vendita, migliorando nel contempo il livello del servizio e la qualità del prodotto finito. La qualità 100% del prodotto è sempre stata per i fratelli Maschio il filo conduttore portante. Lo si può notare anche in questo spot pubblicitario dei primi anni 80. Questa è una fresatrice Maschio, uno dei 98 modelli Maschio per le terre di tutta la terra. Una Maschio ha una struttura modulare con tutti i pesi in perfetto equilibrio per risparmiare potenza al trattore. Una fresatrice Maschio ha un attacco rapido, semplice e pratico. Il cambio ha 4 velocità per lavorare sempre meglio su ogni terreno, le zappette a disegno e materiali speciali per dare più terra al seme. Pepi! Ma cosa ti fa l'ifermo? La sera fresa è che la gà qualcosa. Qualcosa? La mia fresa Maschio? Ti gà le piglie in testa, Fiol! Dai, dai, cammina! Maschio sa quello che un agricoltore vuole e lo fa. Fresatrici Maschio, più terra al seme. I fratelli Maschio hanno sempre creduto al buon lavoro degli agricoltori, riconoscendoli come veri artefici del loro successo aziendale. L'apparato commerciale di Maschio Gaspardo è veloce, flessibile e sempre attento alle esigenze del mercato mondiale. Gli addetti, tutti i componenti del personale interno e suddivisi tra funzionari ed ispettori, oltre ad essere propositivi e competenti, sono diligentemente guidati da un'attenta direzione e supportati costantemente dai più avanzati strumenti di marketing e pubblicità. I responsabili commerciali e i tecnici svolgono con il reciproco appoggio il loro lavoro coordinandosi costantemente alle direttive aziendali e supportando il cliente in base alle sue peculiari necessità. Ma la filosofia del gruppo va al di là della vendita. Il cliente infatti può contare su un servizio di assistenza rapido e direttamente sul luogo di lavoro. Inoltre, su un fornito e veloce magazzino ricambi con consegne garantite anche nelle 24 ore, avvalendosi dei più importanti spedizionieri internazionali. Il servizio logistico, veloce ed affidabile, consta di numerosi mezzi di grande carico che trasportano direttamente le macchine dai reparti di produzione fino ai rivenditori o ai porti d'imbarco. Sono così garantiti i tempi di fornitura e l'integrità del prodotto durante la tratta stradale. Quando si lavora bene, la terra ti ripaga sempre. Grazie a questo importante concetto, i fratelli maschio hanno sviluppato la loro azienda stabilendo come principale obiettivo la realizzazione di macchine che possano concretamente favorire lo sviluppo dell'agricoltura ed agevolando chi si occupa della sua lavorazione. Maschio Gaspardo, un solido gruppo aziendale che ogni giorno idea nuove soluzioni, realizza ed applica tecnologie, propone e divulga quanto conosce per lo sviluppo dell'agricoltura. Un grande gruppo aziendale perché insieme si vince. Si vince.